Si chiama Sostegno Scolastico ai Bambini Disaggiati ed è un progetto per il terzo anno promosso e curato dall'Associazione Maria Santissima della Catena, presieduta dalla sacerdote Sebastiano Privitera. Un post-scuola che si tiene lunedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 nei locali del Centro Giovanile Omonimo, per circa 15 bambini del primo circolo didattico Emanuele Rossi. Si inizia domani, dunque è accanto all'applauso per chi opera da volontario e con competenza. Sempre stamane è partito un appello, incrementare il numero di volontari, perché questo aumenterebbe il numero di fruitori del servizio. Questo progetto è rivolto ai bambini disagiati, sia appunto che si trovano in necessità sia didattiche, economiche ed educative. Vengono segnalati questi soggetti direttamente dal dirigente scolastico, che ne conosce appunto queste necessità. L'appello che noi vogliamo lanciare oggi qual è? Quello di richiamare l'attenzione di persone di buona volontà, che possono offrire anche solo un'ora del loro tempo, in favore di questi soggetti, di questi bambini. Ecco, già grazie ai volontari che hanno operato per ben due anni, infatti questo è il terzo anno consecutivo che portiamo avanti questo progetto. Da domani si inizierà nuovamente, quindi lunedì e giovedì, ma al momento possiamo attenzionare solo il circolo didattico, come noi e Rossi, proprio per carenza di volontari. Quindi nella misura in cui abbiamo più volontari, cercheremo di ricoprire tutte le necessità dei circoli didattici presenti sul territorio. Ecco, desidero in particolar modo ringraziare in primis questi volontari, ma poi anche l'amministrazione Maesano, il sindaco Maesano, sempre sensibile e attento alle istituzioni, quindi alle associazioni di volontariato e appunto ai bambini in difficoltà. Oggi abbiamo annunciato questo progetto e da qui parto di ringraziamento per l'associazione Maria Santissima alla Catena, per la parrocchia tutta e soprattutto per i volontari, perché se questo progetto, lo dicevo prima, vita avrà durata e grazie alle persone che in un modo del tutto volontario dedicheranno parte del loro tempo per aiutare questi ragazzi nelle attività scolastiche. Quindi grazie a loro. L'appello è quello di proprio questo, di trovare sempre più persone e di sviluppare questo senso di solidarietà nei confronti degli altri, quindi trovare dei volontari che possono farci implementare e aumentare questo progetto e magari svilupparne qualcun altro. Sempre in tutto in quella direzione di aiuto socio-psiico-economico per tutti. Grazie a tutti.